L'ho fatto che non conosco il lavoro? Sì. Quindi? E faremo sapere? Oh, che l'era film? C'è un'enda, la porta al bischio, la fai un braga, la ricorda, ti scende e te la chiede. Non ti scorda, se no anche io sento il padre. Mi è scoppiata la guerra. Questo è chi apparteneva? E' tuo, è un regalo. Ciao. Dopo il master sono passata al bar a salutare Chiara. Non sia licenziata. Mi chiama con tu. Mi sono licenziata. Che è successo? Come a tutti chi lo combattere, che credo che c'è ancora la speranza di fare qualcosa che... E' molto meglio. È sempre il marito e... Con la misione da comprare. Di mano gli ammiganti. Escrivi, escrivi, escrivi.